Allora, io volevo far l'attore, io volevo far l'attore perché quando ho visto la prima volta La Compagnia dell'Anello, nel 2001, ero un bambino, li ho visti tutti al cinema, La Compagnia dell'Anello, Le Due Torri, Il Ritorno del Re, io non mi sono innamorato di Frodo, che poi è un personaggio discutibile magari, però è il portatore dell'Anello, io mi sono innamorato di Aragorn. Aragorn era interpretato da Viggo Mortensen, all'anagrafe Viggo Peter Mortensen Jr., un nome che fa presagire chissà che, in realtà Viggo Mortensen è essenzialmente un attore pazzesco perché noi l'abbiamo ritrovato sotto tanti aspetti e non è solamente Aragorn, Aragorn è il primo impatto che ho io e perché sognavo fin da bambino con una voce, magari che non era la mia forse, di poter fare quel monologo all'inizio, alla fine del Ritorno del Re, davanti ai cancelli di Mordor e dire, doppiato poi da Pino Insegnos, quasi sempre Viggo Mortensen era uno dei sogni nel cassetto che avevo, sguainare la spada e urlare popoli dell'Ovest. E lì sì che abbiamo un'interpretazione dove il personaggio dei libri forse addirittura è peggio di quello cinematografico proprio perché è interpretato da un attore del calibro di Viggo Mortensen che nasce a New York il 20 ottobre 1958. Ha ricevuto tre candidature al premio Oscar come miglior attore nel 2008 per La promessa dell'assassino, nel 2017 per Capitan Fantastic e nel 2019 per il recente Green Book. L'attore protagonista aveva, il miglior attore non protagonista, era riuscito a vincere poi il premio Oscar. Green Book è una pellicola che vi consiglio, è molto, è molto, morto, Mortensen, è molto interessante. Allora, quando parliamo di Viggo Mortensen noi possiamo dire innanzitutto una cosa, è poliglotta. Cercatevi un video che è su YouTube dove Viggo Mortensen parla in tutte le lingue europee possibili e non solo. Parla anche in italiano sfoggiando un modesto e ottimo, modesto per l'umiltà con cui affronta la pronuncia, ma ottimo per come poi va a esporre. È veramente molto bravo e lo fa in diverse lingue, tra l'altro lui credo che abbia delle origini che siano scandinave e il suo cognome lo fa presagire, ma anche il suo nome Viggo non è un nome comune. Allora, è difficile parlare di Viggo Mortensen, però facciamolo piano piano. Ha lavorato con Peter Weir in Witness, il testimone, nel 1985. Peter Weir, regista, sceneggiatore, The Truman Show e Dimo Fuggente, Robin Williams e Jim Carrey. Ne abbiamo parlato. Ha fatto Pazzie di gioventù nel 1988, la carriera cinematografica inizia proprio con Peter Weir. Non è dire poco. Rite Quella Porta parte 3 nel 1990, un film famosissimo, una saga che è divenuta famosa nel tempo, soprattutto per il panorama Hollywood, scusate, per il panorama horror. Allora, L'Ultima Profezia, L'Allarme Rosso, Sinistre Ossessioni, Gimlet, Ritratto di Signora con la regia di Jane Campion, Insoliti Criminali con la regia di Kevin Spacey nel 1996, Daylight, Trappola nel Tunnel di Rob Cohen, regia anche di Ridley Scott con il soldato Jane, la pistola dei miei hermano, parla anche fluentemente lo spagnolo Viggo Mortensen. Delitto perfetto, me l'ha promesso dell'assassino, che poi lo porterà alla candidatura al premio Oscar, non l'ha vinto, però ci siamo quasi. Carlitos Way di Brian De Palma nel 1993, mi ero quasi dimenticato, American Yakuza, sempre nel 1993, mamma mia, che robe che ha fatto. Psycho di Gus Van Sant, Walk on the Moon, Complice della Luna, di Tony Goldwing nel 1999, 28 giorni di Betty Thomas nel 2000, e poi la trilogia del Signore degli Anelli, Oceano di Fuoco di Joe Stonson, A History of Violence, David Cronenberg. Ragazzi, è pazzesca la sua filmografia. Ha lavorato anche in televisione, è stato produttore di alcuni film, è anche regista e sceneggiatore di Falling del 2020. Tre sono le candidature, quattro le candidature per il Golden Globe, candidature solamente per il premio BAFTA, e, diciamo così, viaggia sotto questo aspetto. Ma, scusate, Viggo Mortensen non si è mai risparmiato in nulla. Durante la rivoluzione, anche, del film indipendente Salvation, Have You Said Your Prayers Today, conosce la cantante punk Xinservenka del gruppo statunitense X, X, praticamente. I due si sposano poi l'8 luglio 1987. L'anno seguente, il 28 gennaio, 1988, diventa padre del suo unico figlio, che è Harry Blake Mortensen, e dopo la nascita si trasferisce con la famiglia nell'idaio. Mortensen e la moglie poi si separeranno nel 1991 per divorziare, addirittura sette anni dopo, nel 1988. Attualmente, Viggo Mortensen vive in Spagna, quindi per questo parla molto fluentemente lo spagnolo, con l'attrice spagnola Ariadna Hill, a cui è legato sentimentalmente dal 2009. e l'ha conosciuta, sul set di un film, Il destino di un guerriero. Ha sempre criticato l'amministrazione statunitense di George W. Bush, è stato uno che è andato contro alla sua politica, per quanto riguardava soprattutto la politica estera e il militarismo. Nel 2002 è stato inserito tra le 50 persone più belle del mondo nella lista stilata, come abbiamo detto precedentemente, da People, di cui faceva parte, in cui abbiamo visto come abbia vinto o sia stato lì nelle posizioni vincenti Kino Rips. È tifoso sfegatato del San Lorenzo, una squadra argentina di calcio. Questo lo accomuna a Papa Francesco, incredibile. Più volte si è presentato sul red carpet con bandiere e maglie della squadra, quindi è molto appassionato di calcio, soprattutto per i campionati di apertura e clausura che ci sono in Argentina. È proprio il San Lorenzo, squadra anche di Ezequiel Lavezzi, che alcuni italiani sicuramente ricorderanno per un suo passato al Napoli. Nel 2006 a Madrid fu scambiato per un tifoso del Barcellona perché il San Lorenzo ha anche gli stessi colori. Per difendersi dai tifosi madrileni, quindi del Real Madrid, ruppe in testa uno di questi una bottiglia di vino che aveva in bo una borsa e scappò. Diciamo non un gesto esemplare comunque da andare a fare. È un appassionato di musica, tant'è vero che tra le parecchie e non solo di musica, Mortensen è uno stimato fotografo, poeta, pittore, musicista. Ragazzi, che cosa non è? Dovremmo dire Biggo Mortensen. Tra i lavori dell'attore vi sono diverse pubblicazioni di poesia, di libri fotografici e dipinti. Nel 1993 pubblica la sua prima raccolta di poesie intitolata Ten Last Night, anche grazie all'interessamento dell'amico Danny Sopper con cui ha recitato il lupo solitario in limite estremo, a modo di mostrare al pubblico i suoi scatti realizzati negli anni 70, all'essendo una personale mostra intitolata Errant Wine alla Robert Mann Gallery di New York. Quindi poliedrico in quel poliedrico, poligrotta, sa fa tutto. E pensate, doppiato da Pino, insegno che lo doppia in una maniera anche magistrale. Con una parte del compenso, poi, c'è da dire che ha ottenuto con le interpretazioni di Aragorn nel Signore degli Anelli, nel 2002, assieme all'amica Pilar Perez, ha fondato la casa editrice Percival Press, nome preso da Parsifal, uno dei cavalieri della tavola rotonda. La casa editrice è stata fondata da Mortensen allo stesso scopo di valorizzare e aiutare giovani artisti che hanno difficoltà a proporre i propri lavori. Abbiamo visto come l'aspetto negativo, magari, nei confronti dei tifosi del Real Madrid, ma questo, invece, incentiva gli artisti a poter lavorare, a farsi conoscere e a proporre le loro opere. Percival Press è anche il luogo dove si sviluppano i progetti extracinematografici di Mortensen. Sempre nel 2002 pubblica un catalogo delle sue opere, che raccoglie fotografie, dipinti, poesie, inoltre include un diario multimediale, questo è molto interessante, realizzato da Mortensen durante il suo soggiorno in Nuova Zelanda, luogo dove vi sono state le riprese del primo film della saga e anche poi degli altri, che è La Compagnia dell'Anello. Immaginate che la Contea, luogo che ha i Natali, Dai Natali a Pitbull, Baggins, Frodo Baggins e tutti gli Hobbit, è proprio in Nuova Zelanda. I posti sono possibili da visitare ed è una magia incredibile solo a vederne i video. Allora, come pittore, Mortensen realizza invece spesso dipinti astratti, che sono stati esposti in gallerie di tutto il mondo. Tutti i dipinti presenti all'interno del film Delitto Perfetto e questa è una cosa veramente interessante, sono tutti realizzati da lui. Nel suo rapporto con l'arte, infatti, Mortensen allestisce esperimenti che miscelano tra loro diverse forme d'arte, creando un connubio tra poesie, musica e pittura. Mortensen compare nella colonna sonora del Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re, cantando Aragorn Coronation, e lo vediamo anche nella pellicola, di cui, però, forse questa è una cosa che non sapete, lui ha composto le musiche. Per chi ha, magari è fortunato, l'edizione estesa in DVD del film della Compagnia dell'Anello, invece canta la canzone The Lay of Bern and Luthien ed è una grande interpretazione. Diciamo quindi che la carriera di Viggo Mortensen è stimatissima dalla critica, stimatissima dai colleghi, stimatissima dal pubblico ed è anche amato, perché si fa apprezzare, va spesso agli eventi e alle mostre, non solo quelle di pittura, di cinematografiche e quant'altro, ma è un attore che non è solo un attore, perché essere solo un attore le volte ti può condannare a finire, diciamo così, i ruoli non piacevoli, a saperti adattare, a doverti adattare in determinate situazioni. No, non è così con Viggo Mortensen perché Viggo ha segnato, segna una parte del cammino che è molto importante. Un attore può essere tutto, può essere sceneggiatore, dialoghista, può essere scrittore di poesie, pittore, podcaster, perché no? Anche oggi quello che faccio io, che vorrei, volevo, fa l'attore, e per ora il periodo un po' me lo impedisce, ma sicuramente. Bisogna sapersi adattare. Quello che voglio semplicemente dire è che Viggo Mortensen ha saputo evolversi, adattarsi, non soltanto come attore, ma come artista, a tutto tondo.